E allora, questo è il momento più bello, questo è il momento libero, è il momento per dirlo romanticamente a caso, con lo spettacolo. Io vi chiedo che canzoni volete e voi... Io non sento niente stasera, no, girando, facendo gli spettacoli, ho visto che c'è una parte di me che è anche un po' cantante pop, perché la gente canta le canzoni insieme, ci sono delle Nevergreen che io ho scritto, delle canzoni, ce n'è una bellissima, mi dà un'emozione, la farò veloce. Grazie. Ragazzi, al sud però la gente non è così. I mortati! Grazie! Buonanotte, buonanotte a tutti, è buona settimana! Bene, bene, tocca! E mi tocca far per questi 600 di Lionel Day Max. Allora, che canzone volete? Se lo vedo, ma ce l'ha la nascita, abbiamo avuto una canzone di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro, c'era una ragazza sul pen che mi ha chiesto. Faremo un accenno, c'era la canzone di Tiziano Ferro, che canterò dal titolo canzone di Tiziano Ferro. Allora... diciamo la canzone di Tiziano Ferro. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.